Eccola che arriva qua! L'immagine di profilo Ce l'avevo già? Guardate che sta impazzendo adesso Non c'è cosa fare? Anche te va Aspetta, aspetta, aspetta Si su, che? Arriva la ceffona Arriva la ceffona, ecco Arriva la ceffona No, questo, questo Su Emery Cosa? Bounce Quale cosa? C'è Bounce? Ragazzi questo qua il giocatore è forte No, no, Fabio Non lo hai fatta No, non lo hai fatta Porco dio Ah, la spada è più forte di Emery Sì, sì No, incredibile ragazzi Ma è un figlio di merda E' la merda di Dio Ragazzi è proprio, io spero Io gli auguro Gli auguro un male incurabile Gli auguro proprio il male peggio Io posso far questo Aspetta Imparato a giocare al Magic Può fare il Magic Può fare il Magic Può fare il Magic Può fare il token Invece fa spada Tu non gli hai fatto rifare Quindi non lo fai più neanche tu Sì, esatto Sì, sì Il problema è che ha differenza su Non sbaglio Hai già sbagliato A posto, a posto Non puoi fare Non ci stai Ma la fai quella e basta E' zitto, è serio E' scontro tra non titani E' passato il turno E' ritardato No perché sai cosa pesco adesso Guarda con cosa ho giocato Guarda con cosa ho giocato Lo metto giù Se giocano bene adesso Ma quindi finita Come lo fai mettono No, sei in inglese Non sai giocare Non sai giocare Non sai giocare Io un pazzo così non lo favo mai Beh Ah, non lo fai prima a terra E chi fa il petto? Fa balance Vabbè, fa balance Porco di Peschiamo qua Peschiamo due ora Pesco tre Chi? Per pescare voi Ah, lui mi piace quella carta dì Ma anche tutto il tempo prima E' bacco di La scala è parafistano Quella vedi che piace a tu Ma quella dì è grossato Però, a mono blu Ma lì ha un problema da voi Occhi e spigoli Inquadramo ogni tanto le face Le face di puttana E' giocatore numero uno Questo qua è il figlio di puttana numero uno Ritta Ritta Questo invece è proprio una merda Questa è una merda Oddio Oddio proprio Vai Allora Due ore per fare il turno ragazzi Ma cos'è? Si effettivamente Ma quant'è? Scusa A cinque giusto? No, a quattro Ce la fa Ciccia Hai giocato bene? B C Ce la fai a perdere Seconda me ce la puoi fare a perdere E allora? Saporissimo Che cosa come c'è? Un po' di insulti Hells? Io vorrei un po' di insulti Dai figlio di puttana So che questo è il token Aspetta Non contare Strambo YouTube YouTube sicuro Ma Facebook E' un milione di visualizzazioni Nella prima settimana Tutti i giocatori devi mettere su tipo Questo Sto installando Ancora Ma Però non so Dobbiamo spiegare ai nostri spettatori Gli aneddoti di prima Perché c'è questo 1v1 Olè Uless Faccio una balance light Balanced Perché ti va bene che c'ha la balance in mano Da boh Olè In difficoltà Questa è la? Ferendice? No No Il tuo cervello Vediamo cosa combina Ce la fa a fare una stronzata Quante cartelle ho? Secondo me ce la fa 5 6 Aia 6 4 Qui mi faccio una balance Dai è chiara la giocata Sì però non potete aiutare No 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 Assolutamente 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 Ma è che lui ha sbagliato per me Già 4 giorni fa Cioè per me è proprio la sbagliata all'inizio Per me ha sbagliato a draftare quindi Beh vabbè Molto prima ha sbagliato Beh e Fabio prima ha detto Ha sbagliato a nascere Beh vabbè 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 Vabbè